www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Si vuole il legno, per fare il legno Ci vuole l'albero, per fare l'albero Ci vuole il seme, per fare il seme Ci vuole il frutto, per fare il frutto Ci vuole il fiore, ci vuole un fiore Ci vuole un fiore, per fare un tavolo Ci vuole un fiore Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme. Ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, ci vuole il fiore, per fare il tavolo ci vuole un fiore. Per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra. Per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole il fiore, per fare il fiore ci vuole un ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco. Per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il bosco ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare il ramo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme, per fare il seme, ci vuole tutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare il frutto ci vuole il fiore. Per fare tutto ci vuole il fiore, per fare tutto ci vuole il fiore. E allora Enzo, stamattina qui in via Cesare Battisti, scuola all'aperto, sotto il sole, cos'è successo? Sono venuti delle classi delle scuole elementari, della seconda A e seconda B e hanno fatto le foto con le maestre, di cui hanno spiegato le maestre, le cortecce, le cose dell'albero. E questi alberi, a suo tempo, chi li ha piantumati? L'avevo messo io, non lo so se erano 10 anni, 10-12 anni fa, li avevo piantati. E quindi questi alberi da te, ecco, collocati qui in via Cesare Battisti, sono stati oggetto oggi di scuola sotto il sole per gli bambini delle scuole elementari di via Madonna di Fatima.